Ti dirò se è qui, se è qui, se è qui, poi qua Ok, se è qui Se è qui, ti dirò, vuoi essere il mio alleato? Ok, allora ascoltate bene per quello che ti sto per dire Si svolgerà un torneo tra un giorno, secondo te? Ok, vorrà dire che ti dovrai allenare con me Per poi fare qualcosa di positivo Prima che parta per Marte Ovvero ok? Ok